Vincendo oggi contro Killua, salirò a 6 vittorie, e con il combattimento di domani contro Gon, arriverò a 7. Dopodiché, mi basterà trovare altri tre polli e finalmente... sarò Floormaster. A quel punto otterrò finalmente fame e ricchezze per una vita intera. Se ti muovi ti ammazzo. Se utilizzi Nen ti ammazzo. Se provi a urlare ti ammazzo. Se hai capito, chiudi lentamente gli occhi. Hai compreso cosa succederà se non mantieni le promesse? Se ti è chiaro, apri lentamente gli occhi. Guardami attraverso lo specchio e ascolta. Non mostrare mai più la tua orrida faccia di fronte a me o a Gon. Coraggio, promettimelo. Coraggio, prego. Coraggio, prego. Coraggio, prego. Coraggio, prego. Coraggio, prego.